Di sesto idrogeologico, vasche di laminazione ed emergenza edilizia scolastica urge una messa in sicurezza molto ampia nel comune di Sarno a partire dai versanti dei monti interessati dalle ultime frane, attivando subito una manutenzione ordinaria e straordinaria di vasche e canali. Lo ha ribadito il primo cittadino di Sarno, Giuseppe Canfora, dopo un sopralluogo dei tecnici alle vasche di laminazione. Le allerte meteo e la situazione idrogeologica del territorio pongono da sempre nella condizione di massima attenzione alle previsioni meteo. A fronte di questo, con l'allerta meteo proprio di oggi, si è proceduto nel pomeriggio di ieri ad una ricognizione nelle aree più critiche, quelle segnate dagli incendi del mese scorso e lo scivolamento di fanghi e detriti a valle. Dunque, centro storico, via Bracigliano, zona Sambito, sopralluoghi anche nelle zone di Episcopio, Foce e Lavorate. Per quanto riguarda l'emergenza idrogeologica, che riguarda il comune di Sarno, al di là di tutti i sopralluoghi che sono stati effettuati in questi giorni dal Genio Civile Regionale, dal dottor Giulivo, dall'autorità meridionale di Bacino, quindi la dottoressa Corbelli, c'è da parte del comune uno studio approfondito dal quale partirà non soltanto una relazione dettagliata sullo stato dei luoghi e sulle cose da fare, ma partirà anche questa relazione da consegnare poi alla Vicepresidenza della Regione Campania, al Vicepresidente Assessore dell'Ambiente, l'Onorevole Fulvio Bonavitacola e poi alla Protezione Civile Nazionale, al dottor Angelo Borrelli che segue dettagliatamente e puntualmente tutto quello che sta succedendo nella città. Quindi, insomma, c'è una situazione locale che deve essere studiata, deve essere attenzionata. Non nascondiamoci che c'è una situazione di disagio anche da parte dei cittadini perché all'erta arancione significherà sicuramente, fino a che non avremo effettuato i lavori di messa in sicurezza in altura a 750 metri, significherà che tutto quello che sta al di sotto di questa situazione di pericolo deve essere evacuata, c'è poco da fare. Quindi rapidamente dobbiamo fare i lavori che sono stati già appaltati, alcuni cantieri sono partiti, questo che è il più importante deve partire nelle prossime ore. È chiaro che l'inverno è lungo, è appena iniziato, le piogge arriveranno, quindi bisogna procedere con estrema velocità. Assolutamente, bisogna, ma insomma, in quanto a velocità mi sembra che siamo stati oltremodo veloci, insomma, anche grazie all'impegno del Vicepresidente, del Presidente De Luca, cioè da questo punto di vista siamo stati veramente più che veloci, insomma, in 24 ore abbiamo svuotato Vasca San Vito, stanno lavorando a svuotare il canale, è un chilometro di canale, 200 metri sono tombati, quindi insomma è abbastanza, è notevole il lavoro da farsi, questo a valle. E poi c'è tutto il lavoro a monte che deve essere realizzato, sono circa 250.000 metri cubi che stanno a 750 metri di altezza con una pendenza di oltre il 70%. Grazie. Grazie. Grazie.